È una video installazione monumentale quella che fino al 31 di ottobre rimarrà visibile nella sala d'arme di Palazzo Vecchio a Firenze. Pensata e realizzata dall'artista Felice Limosani, quest'opera racconta attraverso la voce del maestro Andrea Bocelli la magnificenza dell'uomo capace di creare nell'arco di sette secoli tutto ciò che rende oggi Firenze una perla dal punto di vista artistico e architettonico. Magnificent è infatti l'incredibile racconto della storia della bellezza che ha rivoluzionato il mondo. Quindi tutto ciò è possibile grazie alla tecnologia ma lasciatemi dire è possibile grazie anche alle opere maestre che abbiamo utilizzato e meglio ancora è possibile grazie all'umanità che ci fa emozionare e che dà senso alle cose. Non si tratta di un film nemmeno di una mostra o di un documentario. Questa è piuttosto un'esperienza visiva che dura 20 minuti e ogni mezz'ora si ripete in lingua inglese. Un'installazione realizzata grazie al contributo di Unipol e Maison Parmigiany e che rappresenta uno dei fiorelli occhiello delle mostre organizzate dal Comune di Firenze nei giorni dell'Expo milanese.